La comunità di Clusone si sta preparando per accogliere Monsignor Giuliano Borlini? Proprio così, sono giorni di grazia a quelli che sta vivendo la comunità di Clusone. Giorni di grazia perché il cambio del parroco, l'arrivo del nuovo pastore, rappresenta proprio qualcosa di speciale per una comunità. E allora anche a Clusone ci stiamo preparando, non solo le strade che potete vedere si stanno addobbando a festa, ma vorremmo che la preparazione sia anche una preparazione spirituale. E allora questa preparazione avrà come momento forte venerdì sera alle 20.30, la Santa Messa al Paradiso e poi un'ora di adorazione, di preghiera per Don Giuliano, per Monsignor Giuliano, nuovo parroco, per la nostra comunità perché sappia spalancare le sue porte e sappia camminare con questo nuovo pastore. E quindi un'ora di adorazione e la possibilità anche delle confessioni per preparare il nostro cuore a questa accoglienza del tutto particolare. Domenica, l'accoglienza vera e propria? E proprio così, domenica ci sarà questa grande giornata di accoglienza a cui invito proprio a partecipare tutta la comunità di Clusone. L'arrivo di un nuovo parroco è una festa, è una festa per la comunità, è una festa per la comunità religiosa, è una festa anche per la comunità civile. Il programma è il seguente, ci troveremo verso le 9 al nostro oratorio, lì arriverà Don Giuliano, alle 9.30 partirà il corteo che attraversando alcune strade di questa nostra città proprio arriverà qui in Basilica. Arriverà in Basilica sostando però prima al Paradiso, per una preghiera di affidamento alla Madonna del Paradiso, tanto cara a tutti noi clusonesi. Poi arriverà in Piazza Orologio dove ci sarà il saluto delle autorità civili. E poi qui in Basilica per una Santa Messa che vede proprio l'inizio del Ministero Pastorale di Don Giuliano qui a Clusone. Dopo la Messa un piccolo aperitivo offerto proprio a tutta la comunità. Insieme a questo la festa non si conclude perché la sera alle 21 in Basilica, qui in Basilica ci sarà proprio un'elevazione musicale della nostra banda cittadina per rendere ancora una volta omaggio al nuovo orciprete. E poi durante la settimana si continua. Proprio così per una scelta del nuovo parroco condivisa col Consiglio Pastorale e con tutti noi, il nuovo parroco celebrerà in tutte le chiese di Clusone e direi anche in tutte le comunità incontrando le diverse realtà che ci sono a Clusone tutta la settimana dopo. Per il programma dettagliato vi rimando alle locandine che trovate nel paese.